Non solo i familiari, gli amici e i parenti. In tanti questo pomeriggio si sono radunati fuori la chiesa di San Lorenzo Martire in via Montagna Spaccata, a Pianura, per dare l'ultimo saluto a Francesco Pio Maimone. I cancelli della parrocchia, aperti alle 15, hanno visto l'ingresso della bara con la salma del 18enne, seguito da una fiumana di volti mesti. A celebrare l'eseque, assieme al parroco del quartiere della periferia partenopea, Don Enzo Cimarelli, anche il vescovo della diocesi di Pozzuoli, Gennaro Pascarelli. Una funzione blindata alle telecamere e alla stampa, a cui Don Cimarelli aveva espresso la volontà dei cari di Francesco Pio di evitare riprese e interviste, in un momento di estremo raccoglimento e sofferenza. Un'omelia toccante per la famiglia Maimone, attorno alla quale da giorni si era stretta la comunità di Pianura, che vuole con tutta se stessa affrancarsi dalla morsa che la criminalità e la malavita ancora hanno sul territorio. In prima fila, nella chiesetta di periferia, anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l'assessore alla legalità partenopeo Antonio De Jesu, in rappresentanza di quel mondo delle istituzioni a cui la famiglia di Francesco Pio e l'intera comunità di Pianura hanno chiesto una svolta. Mai più vite spezzate, mai più tragedie come questa, mai più famiglie che debbano piangere un figlio appena 18enne, per un proiettile esploso da un coetaneo fuori a un bar nel corso di una normalissima serata.